Secondo alcuni studiosi di medicina, alcuni medici, alcuni giornalisti, a Los Angeles potrebbe tornare la peste bubonica, non solo a Los Angeles ma anche in altre grandi città degli Stati Uniti come New York, Miami, perché i cambiamenti climatici, il surriscaldamento del pianeta, stanno portando appunto all'elevarsi delle temperature. Questo sta aumentando il numero di topi e il numero di pulci che viaggiano con essi. Sono proprio le pulci che trasmettono la peste bubonica, anche chiamata la morte nera, che nel Medioevo sterminò il 90% dell'Europa. Quindi c'è l'allarme di un possibile ritorno di queste antiche malattie che con il riscaldamento del pianeta fa diventare delle zone equatoriali e pronte alla coltivazione naturale di questi batteri mortali e pericolosissimi, che si pensavano debellati da centinaia di anni, ma non è così. Grazie. Grazie. Grazie.